buongiorno ragazzi buongiorno scusate la voce scusate se c'è una faccia abbastanza impresentabile ma sono e da ieri sera ieri pomeriggio che c'ho febbre 38 8 poi scende poi sale perché purtroppo sono risultato positivo quindi abbiate pazienza e pietà di me per lo stato ma nonostante tutto cerco pur sempre di portarvi qualche contenuto anche perché sono in quarantena quindi noia totale e niente quindi ci provo ecco in qualche modo con quello spicchio di forza vi faccio lo stesso i video oggi parliamo di un altro giocatore che lo so parlo spesso di Monza ma che ha acquistato il Monza perché ormai è praticamente fatta avremo la coppia Ranocchia Ranocchia ragazzi solamente che uno è un difensore centrale già preso e uno l'ha preso ora praticamente Filippo Ranocchia esattamente il classe 2001 della Juventus il Monza chiude con la Juve prestito con diritto di riscatto questa volta non obbligo quindi poi a fine stagione sarà il Monza a decidere se ne vale la pena riscattare Ranocchia comunque la Juventus per non perdere diciamo a tutti gli effetti il giocatore qualora il Monza volesse riscattare il ragazzo ha messo una specie di clausa di recompera quindi se il Monza volesse riscattare Ranocchia la Juventus può volendo reinvestire sul giocatore sì perché comunque un classe 2001 la Juventus non vuole privarsi di questo giocatore vorrebbe ancora puntarci ci crede a questo ragazzo e quindi così abbiamo tolto il dubbio della vendita nel senso che si può sempre meno male di acquistare è un classe ripeto di 2001 ha 21 anni molto molto giovane ha fatto i prestiti in serie B gli scorsi anni a Perugia e dell'anno scorso anno a Vicenza che tra l'altro se non sbaglio è retrocesso in sede in Lega Pro dove lui si è abbastanza distinto ma alla fine poi se non funziona una squadra degli unici complessivi anche lui è venuto un po' a mancare no è un certo campista centrale che comunque appunto può fare la mezzala è una mezzala certo campista centrale no che si sa inserire all'occorrenza può fare anche il mediano quindi nel senso può anche impostare andare a Nokia perché sa usare sia bene il piede destro che il piede sinistro il valore di mercato ragazzi è di 1,8 milioni di euro allora prestito con diritto di riscatto non si sanno ancora le cifre di quanto possa essere scusate questo diritto di riscatto e non si sanno neanche automaticamente le cifre qualora la Juventus dovesse attivare questa clauda dire compra non so la Juventus quanto dovrebbe spendere se poi lo voresse di comprare su questo punto di vista ancora non ci sono informazioni necessarie comunque è alto anche 1,86 quindi un giocatore abbastanza alto fisico no a centrocampo che può dir la sua e comunque messo lì no in un reparto centrale affiancato da Sensi e davanti magari con Pessina trequartista può dir la sua no in mezzo comunque a giocatori che sono importanti può anche li distinguersi no non ha il peso di magari trascinare una squadra sola il Monza ragazzi si sta formando in una maniera assurda siamo a quota 9 siamo a quota 9 acquisti con Andrea Ranocchia quota 9 questi qua stanno completamente cambiano una squadra bastano ancora due acquisti e il Monza ha fatto una scuola nuova perché arriverebbe a quota 11 qualcosa di pazzesco tutti i prestiti condividi obbligo di riscatto cioè così si lavora così si lavora così si lavora perché poi alla fine a parte pagare gli stipendi i soldi come ripeto anche come ho detto anche con Caprari che il Monza ieri ha confermato anche Caprari scusatemi se poco è Caprari che ha fatto la differenza l'anno scorso al Verona e se deve pagare paga poi a fine anno non pagherà sicuramente in quest'inizio di stagione quindi Pio no anche Filippo Ranocchia e che dire ragazzi al Monza a sto punto la quota 10 può essere l'attaccante nel senso si Caprari è una seconda punta però può fare anche l'ala ma non può fare l'attaccante quindi al Monza manca solamente un attaccante fatto l'attaccante ragazzi sì sono a 10 quota 10 mancherebbe ancora uno per fare 11 giocatori ma già con l'attaccante di peso di davanti il Monza si può dire che ha completamente fatto una scuola nuova fatto una scuola nuova è sicuramente la regina in discorso di questo calcio mercato perché per quanto c'è Silvio Berlusconi e Galiani che hanno il cash si sanno muovere ricordiamoci che comunque pur sempre è una promossa e quando mai d'avviso una promossa a fare tutti questi acquisti e che acquisti di livello ripeto sì Berlusconi e Galiani quindi ce lo puoi anche aspettare da una parte un mercato del genere con un presidente che ha detto che emetteva 150 milioni di euro per il mercato però è sempre una promossa e quindi salta all'occhio questa cosa qua del Monza quindi ripeto Filippo Ranocchia sarà il nuovo giocatore del Monza apprezzato il quadritore di scatola Juventus avrà la clausola di recompera questo è ragazzi taglio sono già fatto 6 minuti secondo me sono anche troppi perché sicuramente non ce la faccio scusate e niente se vi è piaciuto lasciate un bel like ragazzi sostenetevi visto che sono malato e comunque nonostante tutto se riusci a portarvi un contenuto se usciranno comunque altre notizie di mercato ve le porterò anche se non sono in condizione perché a breve dovrebbe esserci anche chi ma il Napoli così se ne parla per ci sarà l'ufficialità vi faccio uscire il video quindi lasciate un bel like se tanto questo video vi è piaciuto come vedete questi commenti fatemi sapere un po' cosa ne pensate appunto di Ranocchia al Monza Filippo Ranocchia e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importante non costa nulla per vedere tanto basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costi non lo fatevi ringrazio di cuore condividete i video con i vostri mi piace per iscrivere anche loro e attivatevi le notifiche così non perdetevi i prossimi video passate a crescita link e l'extensione della bar di Fusi Channel qui dobbiamo chiarire tutto bella